Voi sapete che cosa si fa in cucina? Beh, già che si parla di cucina vuol dire che si sta parlando indirettamente di me. Sono Alessandro Borghese e vi do il benvenuto. Io sono qui sulla paginetta dell'Ale tutti i lunedì, da lunedì prossimo, per darvi delle micro pillole dove parlerò di cucina, parlerò di alimentazione, così anche voi potrete diventare di piccoli chef. Non grandi, perché sono io, Alessandro Borghese, non voi. Però comunque potete aspirare a diventare come me. Io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì, sempre che voi vi ricordiate di questo appuntamento. Vi saluto, ciao a tutti, Italia è stato al Borghese. Mortacci vostra, ma che ha morta sta cucina? Pippo Baudo, chiamatemi Pippo Baudo. Sa manco cucinare il risotto con la quinoa.